Per il quinto anno consecutivo, le spiagge di Margherita di Savoia hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della bandiera verde, vessillo che indica l'appartenenza al circuito delle località turistiche a misura di bambino. L'elenco aggiornato è stato svelato a Rochella Ionica, dall'ideatore dell'iniziativa Italo Farnetani, professore universitario di pediatria e presidente dell'International Workshop of Green Flags. Sono 2.903 i pediatri coinvolti nel progetto, medici italiani e stranieri, che hanno candidato le mete marine ideali per le famiglie. Il risultato è una lista di 146 spiagge italiane, insignite della bandiera verde, a cui si aggiungono 5 località situate nell'Unione Europea e 3 in Africa. La Puglia, come lo scorso anno, ha ricevuto 13 bandiere verdi. Fra di esse figura ininterrottamente dal 2019 anche Margherita di Savoia, che è l'unico comune della Batta ad aver ricevuto l'ambitissimo vessillo, e figura in questo ristretto elenco delle eccellenze della balneazione, assieme a 5 comuni del Salento, 2 del Gargano e delle province di Brindisi e Taranto, ed una della provincia di Bari. Il periodo delle vacanze è soprattutto per i bambini un momento privilegiato per riprendere la vita all'aria aperta, spiega il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto. I genitori, conoscendo in anticipo le località più adatte per i bambini, ha proseguito. Sono in grado di orientare la loro scelta per le vacanze e sanno che a Margherita di Savoia troveranno tutto il necessario per una villeggiatura gioiosa e serena. Grazie. Grazie.